si sono incrociati come estranei senza un gesto o una parola lei diretta al negozio lui alla sua auto forse smarriti o distratti o immemori di essersi per un breve attimo amati per sempre d'altronde nessuna garanzia che fossero loro sì forse da lontano ma da vicino niente affatto li ho visti dalla finestra e chi guarda dall'alto sbaglia più facilmente lei è sparita dietro la porta a vetri lui si è messo al volante ed è partito in fretta cioè come se nulla fosse accaduto anche se è accaduto e io solo per un istante certa di quel che ho visto cerco di persuadere voi lettori con brevi versi occasionali quanto triste è stato grazie a tutti